Ciao, la buona notizia che è anche molto responsabilizzante secondo me è questa, cioè che non solo i vivi si prendono cura dei malati, dei morenti e dei morti, ma anche i malati, i morenti e i morti si prendono cura dei vivi. E qual è la responsabilizzazione? Che al momento in cui c'è conoscenza e amore noi abbiamo la responsabilità di prenderci cura e quindi anche di predisporci all'ascolto di questi segnali che ci vengono da parte dei malati, dei morenti e dei morti in questo mutuo aiuto che c'è fra i vivi e i diversamente vivi. E questo ci dà una grande carica nella vita ma anche una grande responsabilità perché non possiamo vivere come se fosse tutto negativo ma abbiamo la responsabilità di seminare semi di luce. Grazie per la visione! Grazie per la visione!